posi quel quadro io la lascio andare non so perché charbonnet è considerato uno stimato collezionista d'arte papà quando vendi un capolavoro falso tu commetti un reatto ma alcuni critici decidono di fare un aperizio nicole vuole rubare l'opera perché ma lo sa che vale un milione di dollari come rubare un milione di dollari e vivere felici martedì alle 21 e 10